Ecco qui, io vengo presto, e ho con me la ricompensa che darò ad ognuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, sono il primo e l'ultimo, sono il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Io sono l'Alfa e l'Omega, sono il primo e l'Omega, sono il primo e l'Omega, sono il primo e l'Omega. Io sono l'Alfa e l'Omega, sono il primo e l'Omega, sono il primo e l'Omega. Io sono l'Alfa 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 e l'Omega. Grazie a tutti.